Qui ha visto, per prima le piastrelle facevano, guarda. Ah, caspita. Oh, caspita, tutto è un'omola. Quella là con i bocchini sono radio, per esempio. C'è la cassetta del pronto soccorso, lì col medico, col ferito, con la lacchima l'occhio. Ma anche di sopra. E' incredibile il materiale che è riuscito a raccogliere. E' in tanti anni. Mamma mia, questo signore qua. Incredibile, davvero. Pirelli. Questi qui invece erano quelli da ufficina, distributore d'ufficina sulle rotelle, sulle rotelle, no? In modo che li tiravano vicino alla macchina per provare il motore. Ah. Il serbatoio era qui. Eh sì, perché questi dovevano... Cos'era? Compressori, no? Cosa sono questi? No. No, questi qua? Ah, proprio distributori, distributori. Ah, quindi c'era dentro la benzina e svuotavano. Il serbatoio era sotto, però, qui. Quindi, dice che sparirà la benzina. Quando... come? Sparirà, secondo lei, la benzina. Ma... Chissà quando. Chissà quando. Ci sono interessi. E se le sorelle non lo perdono. Eh, però, però, adesso con le macchine elettriche qualcosa... Non c'erano le lattine, l'olio lo mettevano nelle bottiglie. Ah, quindi... Ah, così veniva distribuito? Sì. Sì. E queste sono le prime macchine per mettere l'olio nel latte. Guardi qui i gadget, mamma mia. Qua erano per il sale e il pepe. L'olio e l'aceto a forma di canestro. Il telefono. Quasi carini. Il telefono a forma di distributore. Una radio. Il puntale dell'albero di Natale col cane dell'anagite. Vediamo se... Vediamo noi sempre un segno a casa che gli ricordasse... Sì. Da dove veniva la loro opulenza, ricchezza. Caspita, guarda te. Incredibile. Questa era la feina... Tant' Orderale.